Ciao ragazzi, sono Andrea Silvestro, ho 22 anni, vengo da Monza, sono un cuoco, aspirante chef. I miei piatti che vengono meglio, a mio parere, sono i primi. Credo che il piatto tra tutti è la pasta a burracciughe, uno spaghettone a burracciughe molto semplice, ma nello stesso tempo anche un po' complesso. Mentre credo che per difficoltà, forse nei dolci, che ho avuto meno esperienza a riguardo, però non le temo assolutamente, anzi. Mi sono avvicinato al mondo della cucina grazie a mia mamma, che è un'ottima cuoca, quindi ho preso le basi da lei all'inizio, poi mi sono iscritto all'alberghiero, ho continuato il mio percorso e ad oggi penso di essere abbastanza formato, ma non completamente, infatti sono appunto in un'accademia. Come voto mi do onesto, umilmente, un 8, dai, credo. che giù sa bello all'alberghiero... Autore dei sorrisi